Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione del Roma Daily News. In apertura, inchiesta Mafia Capitale parla Odevaine. È un giallo il tentativo di rapimento del figlio di Francesco Totti. Secondo Luca Odevaine, imputato nel processo di Mafia Capitale all'epoca capo di gabinetto di Walter Vertroni, un ex detenuto ultra della Roma rivelò un piano per sequestrare il figlio del capitano giallorosso. L'ultra uscito di galera raccontò al braccio destro di Totti, Vito Scala, stando sempre a Odevaine, che gli era stato proposto un piano per prelevare il piccolo Cristian, che all'epoca aveva un anno, per un compenso da 50.000 euro. Per difendere il primo genito, è sempre Odevaine che parla, il capitano giallorosso avrebbe pagato in nero fino all'anno scorso sei agenti della Polizia Municipale del gruppo pronto intervento centro storico. È il retroscena che emerge dalle nuove carte dell'inchiesta Mondo di Mezzo depositate dalla procura alla vigilia dell'inizio del processo. La visita del Papa a Prato. La vita di ogni comunità esige che si combattano fino in fondo il cancro della corruzione e il veleno dell'illegalità. Con questo monito Papa Francesco ha iniziato la sua visita nella città toscana, prima tappa della sua visita pastorale che si conclude a Firenze in occasione del convegno ecclesiale nazionale della CEI. Il Papa ricorda i sette lavoratori cinesi morti due anni fa. La sacralità di ogni essere umano richiede per ognuno rispetto, accoglienza e un lavoro degno ha poi ribadito il pontefice nel discorso rivolto ai fedeli durante l'incontro nella piazza della Cattedrale di Prato. Caso scontrini marino. In procura sono cominciati gli interrogatori nell'ambito dell'indagine sulle presunte spese pazze dell'ex sindaco di Roma, iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di peculato. Uno degli scontrini incriminati finiti sotto la lente degli inquirenti è appunto quello della taverna degli amici, una cena da 120 euro offerta dall'ex sindaco alla Cirillo per coinvolgerla nel progetto di creazione della città della scienza, ha spiegato la donna ai magistrati. Claudia Cirillo ha ammesso davanti ai PM che la sera del 27 luglio 2013, seduta al tavolo insieme a Ignazio Marino, c'era lei e non la moglie dell'ex sindaco. Resta comunque il fatto che la giovane donna non è un rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come riporta invece il giustificativo della cena pagata con la carta di credito del Comune di Roma, data in dotazione all'allora primo cittadino. Football Cares, tramite il profilo Twitter in lingua inglese, la Roma ha reso noto che anche il Chelsea ha aderito all'iniziativa. La squadra di Abramovic ha donato una maglietta autografata da 10 giocatori all'asta per raccogliere fondi. Cultura e spettacolo, un tuffo negli anni 80 con i Duran Duran che si aggirano per le strade di Birmingham in Gran Bretagna per ricordare la loro musica e celebrare la band inglese. Formata da Simon Lebon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, sarà organizzata una giornata loro dedicata sabato 28 novembre a Roma. Il Duran Duran Day, appuntamento per i fan e non solo nel locale Stazione Birra, che si trova in zona Nagnina, Tuscolano, ed il ricavato andrà a finanziare le opere benefiche, come la costruzione del centro chirurgico e pediatrico di emergency a Goderic in Sierra Leone. Questa era l'ultima notizia, l'informazione continua su romadelinews.it. Buona giornata.